Ciao ragazzi, abbiamo un nuovo studente nella nostra classe! Presentati per favore! Sono Jacqueline! È lei la nuova ragazza! Ciao! Il suo stile è molto interessante! Per favore sedetevi! Classe, oggi iniziamo un argomento importante! Fai una passeggiata da qualche parte? È così maldestra! Ehi, siediti vicino a me! Grazie, ciao ragazzi, piacere! Vuoi farti un selfie con il mio smartphone ultra pro? Non toccarlo! Scusa! Ti va di giocare a pop con me? Siamo all'asilo per caso! Ehi, siamo al college! Una ricca studentessa non riesce a capire l'ossessione per quel giocattolo, ma i suoi compagni di classe se lo godono! Basta, ho finito! Ce ne andiamo! Ma dove sto andando? Non farci caso, è così noiosa! Questo è un diamante da 500 carati! Non ho mai visto niente del genere prima! Oh, è così grande! È fatta su misura! La mia patatina! Mangia bene, carissima! È il tuo animale! Sì, è così adorabile! Tutti si sono di nuovo dimenticati di Carol! È più divertente giocare con un animale carino piuttosto che stare a guardare dei gioielli! Che c'è di così interessante? Itam, anche io voglio un animaletto birichino! Sarà fatto! Aspetta un attimo e sbrigati! Il mio povero anello! Nessuno l'ha guardato! Ecco l'animale più soffice! Ragazzi, guardate! Guardate cosa abbiamo! Ma è un ragno enorme! Corriamo via! Aspettate! Lo renderò scintillante e pulito! Più pulito di quanto tu abbia mai visto! Bene, ho finito! Forza, sbrigati! Oh, ho versato il caffè! Attento, ho appena lavato! Oh, che peccato! È ora di andare alla prossima lezione! E la macchia? Oh, giusto! Forse il pavimento ha ancora sete! La ricca Carol ha un assistente che fa il lavoro per lei! Che cattive maniere! Di solito puliamo le macchie così! Hai appena peggiorato le cose! I giovani d'oggi non hanno rispetto per gli altri! Lascia che ti aiuti! Te ne sono molto grata! Ragazze, venite qui! Sono felice di aiutare! Puoi chiederci qualsiasi cosa! Incredibile! Queste ragazze sono così gentili! La povera Jacqueline usa la sua popolarità a fin di bene! Non preoccuparti, questo corridoio brillerà! Ho scritto! Sarà la migliore festa dell'anno! Oh, non ho tempo! Perché è così maleducato? Ragazzi, aspettate! Venite alla mia festa! Vedo che vi piace il mio volantino! Che schifo! Ti sembra un bidone della spazzatura? Salviamo le foreste! Bel poster! Io farò la festa dell'anno, verrai! Grazie per l'invito, ci penserò! Non posso credere che tutti mi ignorino! Calmati, andiamo a controllare che succede! Ok, andiamo! Forse avremo fortuna! Ma che diavolo stanno facendo? Stanno scavando, credo! Non capisco! Eccovi ragazzi! Avete deciso di unirvi a noi? Ecco qui! Vi mostro come pulire! Avete insistito, quindi forza, aiutateci! Raccogliamo i rifiuti! Queste fragole sono freschissime! Assaggiale! Hanno un sapore incredibile! Uno, due, tre! Siamo una squadra da sogno! Andiamo! Io inizio per prima! Sembra che gli studenti abbiano trovato un'attività divertente da fare durante il picnic! Non preoccuparti, ci penso io! Sì, ma sbrigati! Mangiare da soli è noioso! Ma quanto ci mette? Lo prendo io! Sì! Che c'è? Smettila subito! Ecco, prendilo! Anch'io conosco qualche trucco! Sei stato forte e sai come divertirti, eh? Ma quanto devo aspettare? Wow! Bel colpo! Sono molto brava! Oh no, rieccolo! Oh, fa male! Odio i picnic! Basta! Me ne vado! Ciao ciao! Mi prendo una pausa! Giocate senza di me! Oh, dov'è Carol? Buon appetito Carol! Ho preparato il tuo piatto preferito! Sbrigati a fame! Ecco il sushi! E buon appetito! E io? Anch'io ho bisogno di mangiare dov'è il mio pranzo! Dagli uno spuntino forza! È un panino fresco? Grazie! Voglio anch'io un piatto speciale, non questo schifo! C'è solo questo, ma puoi sempre rimanere affamato! Oh, ciao Jacqueline! Aspetta un attimo, ho qualcosa di gustoso per te! Wow, davvero? Sei così gentile! Mantieni il segreto? Certo, 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 grazie! Come può mangiare quel tipo di cibo? Meno male che io ho il mio sushi! Buono! Ti mangio io! Ciao ragazzi! Oh, che c'è nei vostri piatti? Volete dei panini? Sì, certo! Ne prendo uno, grazie! Buono come al ristorante! Cos'è questo rumore? Prego! Stanno mangiando insieme? Beh, peggio per loro! Sono così emozionata! Chi sarà? Ora lo scopriremo! Aggiungiamo un nuovo volto al nostro consiglio! Non ci posso credere che quella sia la mia foto! Congratulazioni Jacqueline! La povera studentessa Jacqueline è molto popolare al college! Perché sei felice? È una bella foto! Avresti dovuto essere tu! Sono così stanca di loro! Ho un'idea! Non ti sento scusa, ridillo! Il suo trucco è molto opaco in quella foto! Ho afferrato! E io penso che dovremmo rimediare! Le mie lezioni di arte finalmente torneranno utili! Spero che stia bene! Ho finito! Mi hai spaventato! Scusa, che ero emozionato! Come è andato? Tutto bene? Perfetto! Come le è venuto in mente? È così creativa! Fidati, rideranno tutti quanti di lei! Fuori dai piedi, vogliamo sfoggiare i nostri look alla moda! Ma che hai fatto? Perché che c'è che non va? Ma come? Che avevo chiesto di rovinare la foto, non di creare una nuova tendenza! Beh, non è colpa mia se il mio stile è cool! Ma dove sono finiti tutti? Ciao Carol! Ciao! Oh, eccoli, vado! Sono contento che ti sia piaciuta la mia body art! Senti, brutto Picasso! Hai di nuovo sbagliato! Non l'ho fatto apposta! Vattene da qui e stai molto attento! Non faremo in tempo! Sì, hai ragione! Ehi ragazzi, Carol ha qualcosa per voi! Una ricca studentessa cerca di attirare l'attenzione della gente ad ogni costo! Ho un paio di gadget extra! E se volete, posso darveli! Wow! Davvero? Sono felice di aiutare i miei compagni di classe! Ciao ragazzi! Ho le risposte al test di biologia! Posso condividerle se volete! Fantastico! Sì, grazie! Sei la migliore! Grazie! Puoi prenderle anche tu? Tieni, non mi dispiace! Oh, quanto è gentile! Ma io non me la bevo! Secondo me fa solo finta di esserlo! È questo l'effetto che ti fa lo studio, Carol? No! Lei non capisce! Ah! Faccia come le pare! Ecco i tuoi risultati! Oh, ma quanto sono sfortunata! Ehi, ma vuoi smetterla? Hai portato tutto? Certo, come hai chiesto! Eccellente! Questo smartphone è stato fatto esclusivamente per me! Guardate che cosa ha Carol! Non guardare qui e mantieni le distanze! Possiamo toccarlo! Tieni le mani a posto! Le cose di Carol sono intoccabili! Sembrano interessati? Sì! Hai visto il suo tablet? È uno smartphone in edizione limitata! Mi piacerebbe averlo! Guarda cosa ha portato Jacqueline! È il mio computer! Wow! È vintage! Mia nanna ci giocava a Mario Bros! Quindi sì, è davvero vecchio! La studentessa povera non può permettersi tecnologia costosa! Ma di che diavolo di epoca è? Sembra un dinosauro! Accendiamola! L'ho visto in un film sugli uomini delle caverne! Ci si può giocare solo a Flipper! Ma qual è il problema? Si stanno divertendo senza di me! Dai, puoi battere il drago Ender? Sembra stiano giocando a Minecraft! È colpa tua! Che? Dovevi portare anche il gioco popolare! Ora nessuno presta più attenzione a me! Questo fai da te dovrebbe venire molto bene! Ma che sta facendo? Chi se ne prega! Ho delle cose da fare! La ricca Carol non ha cose semplici! Anche il suo pop è di prima classe! Wow! È d'oro! Possiamo giocarci? Certo! Forte, ma non scatta! Cos'ha che non va? Devi solo premere più forte! Ma mi romperò il dito così! Oh, è davvero difficile da premere! Forse è rotto? Che sta facendo Jacqueline? Interessante! Ti faccio vedere quando ho finito! E il mio pop-it esclusivo è d'oro! È unico! Chissà cos'è! Sta lavorando così tanto! Smettila di sporcare qui! Questa cos'è? L'ora delle arti e dei mestieri! Sta facendo un astronauta! Hai ragione! Guarda, è Among Us! Ed è anche un pop-it! Wow, sei creativa! Grazie! Non posso credere che nessuno sia venuto a congratularci con me! Chissà dove sono tutti! Sembra che la festa della povera Jacqueline sia pianificente! Questa snob è di nuovo sotto i riflettori! Divertiamoci tutti insieme! Sì! Nascondimi! Lei non deve vedermi! Grande festa! Congratulazioni! Grazie! Sono contenta che tu sia venuta! Facciamo festa insieme! Credo di non avere scelta! Ragazzi, portatemi spuntini! Questo è un intero buffet! Ti è piaciuto il video? Allora metti mi piace, iscriviti al canale e fai clic sulla campanella! A presto! Ciao! 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 Ciao!